Abbiamo di fronte dei mesi importanti per la Torino-Lione. A gennaio 2021 infatti inizierà la discussione tra Bruxelles, Italia e Francia per il Grand Agreement, ovvero l'aggiornamento del piano di finanziamento dell'opera. Sul tavolo c'è un'apertura importante della comunità europea, cioè di portare il proprio apporto al 50% sia per la tratta internazionale sia per quella nazionale che al momento non ne beneficia. Con la possibilità di arrivare fino al 55% di cofinanziamento per la sezione trasfrontaliera in considerazione della gestione binazionale che viene condotta da TELT. Intanto, come hai ricordato tu Elena, i lavori proseguono nel pieno rispetto delle norme sanitarie stabilite da Italia e Francia per il contenimento della pandemia da coronavirus. Nel frattempo, a settembre, al cantiere di Saint-Martin-la-Porto sono stati raggiunti 10 km di tunnel di base dove transiteranno i treni. e in questo periodo si stanno aprendo i cantieri per lo scavo dei pozzi di ventilazione ad Avrieux, sempre nel lato francese, per garantire un buon sistema di aerazione nel tunnel dove transiteranno i treni tra Italia e Francia. La circolazione d'informazioni fiable e verifiée devient di più in più un engeo maggiore in Europa. C'è per cui, con Zoom, abbiamo scritto alla l'Oupte come si organizza un dialogo consolidato con le popolazioni e le instituzioni pubbliche, dont l'informazione è il pilio principale. In Francia, il primo ministro Jean Castet ha illustrato in settembre i punti di forza di France Relance, un piano da 100 miliardi di euro per far ripartire l'esagono. Tre, le priorità ecologia, competitività, coesione, che saranno sostenute grazie anche all'apporto della comunità europea. Tra le opere viene citata la Lyon-Turin, considerata un progetto strategico per favorire la sostenibilità dei trasporti, migliorare l'ambiente delle valli alpine e l'economia dei territori. France Relance rafforzerà ulteriormente la procedura des marches Grand Chantier, diretta dallo Stato. È un partenariato pubblico-privato che intende favorire occupazione, formazione, alloggio, sviluppo locale ed è già stato avviato con efficacia negli anni passati in Morienne. Una best practice nel momento in cui vengono costruite grandi opere infrastrutturali. Ci troviamo a Saint-Julien-Mondény, nella valle francese della Morienne, un territorio che diventerà famoso perché qui è previsto l'ingresso del tunnel che collegherà sotto le Alpi l'Italia con la Francia. E proprio qui si è creato un modello interessante di dialogo tra la società che sta costruendo la tratta trasfrontaliera TELT, la popolazione con le sue associazioni di difesa dell'ambiente e il municipio. L'historico, c'è che a peu près 25-30 anni, c'è stato un progetto di tunnel. Ma la popolazione non è stata concernata, perché si diceva che si vedrà bene, 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 si vedrà bene. E poi, tout doucemente, si è arrivato. L'objectif di nostra associazione è di prima di difesa di difesa contro le nuisanzi del chantier, a savoir bruit, poussiere e derangement. L'associazione non è contro il progetto, è un progetto interessante per la nostra vallia. Cependant, non bisogna che i riferi in supporto le conseguen, è per questo che l'associazione è stata creata, è per essere vigilante e essere in relazione con gli altri, per evitare tutte queste nuisanzi. Il y a 5 déposti su Saint-Juilland-Mondi. Ma attuale, la popolazione è molto più impactata per l'entrata del tunnel, per la tranchéa coverte. E là, la popolazione è touchata, perché c'è l'arc, la riviera, quindi, ci sono più impactate, per andare a Saint-Jean-de-Maurienne. Quindi, la popolazione è impactata, a savoir, ci sono dei Saint-Juilland-Mondi a Saint-Jean-de-Maurienne, vengono i campi, vengono i lavori, e allora si dicono, sì, questa volta siamo in piena dame. Abbiamo stato ascoltato da TELT. A ogni volta che facciamo una domanda, la domanda è stata ascoltata. Ci hanno cercato di fare meglio per limitare le nuisanzi. Non è perfetto, ma è stato un grande passo. Ci troviamo a Modane, nella ex-risaria alle mie spalle. TELT ha fatto il quartiere generale della direzione che organizza e intratiene i rapporti con il territorio e le istituzioni locali. La concertazione che abbiamo messo, per esempio, in 2019, ha conduito a realizzare più di 180 riunioni con i riferini, le associazioni di riferini, i elezzi, i mairi e elezzi di tutte le collectività della Morienne. Ci atteggiamo con la DEMARGE del chantier, pilotata da l'Etat, con la regione Verne-en-Alpes, con il Consiglio départementale e noi mesi, con la collaborazione estroita con il sindicato di Piede-Maurienne, permette di mettere in oeuvre e di co-financer un certo numero di actions sullo territorio, per esempio, nel caso della revitalizzazione dei centri borsi, di sviluppo energetico e anche delle actions molto forti per l'emplare, la formazione liate al chantier e per l'esperimento dei futuri persone che vengono sul nostro chantier. A questo stade, la DEMARGE del chantier ha già, su 2016-2020, ha aiutato a financer più di 23 milioni di euro di action, dont 3 milioni di euro financati dal FAST, il Fondo di accompagnamento e di supporto territoriale, che è composto di 32 milioni di euro, un budget pilotato tra le azioni importanti sul versante francese, c'è una capillare divulgazione per informare i cittadini con periodicità sull'evoluzione dell'opera anche durante occasioni pubbliche di richiamo, come, per esempio, la Foire de Savoie. E alla Foire de Savoie, on arriva, anche con la DEMARGE del chantier, a fare dei ateliati sull'emploi e la formazione, quindi, sempre un lien tra la comunicazione, la concertazione e il sviluppo per il chantier e del territorio. Grazie.